La convenzione che questa mattina si firma a quattro mani, per così dire, tra Comune, Soprintendenza, Fondazione Tercas e privati, cioè i signori Savini, è un fatto importantissimo perché i signori Savini mettono a disposizione la loro proprietà privata così importante, mettono a disposizione la loro volontà di rendere fruibile questa opera d'arte. Il Comune si impegna con la propria attività a superare quelle criticità, soprattutto su via antica cattedrale che dovessero ancora presentarsi. La Soprintendenza garantisce il recupero scientifico e archeologico del manufatto dell'opera d'arte. La Fondazione, non soltanto sotto l'aspetto finanziario ma anche sotto l'aspetto contenutistico, renderà non soltanto fruibile con un progetto specifico il Mosaico del Leone, ma naturalmente garantirà con la prima presenza che questa fruibilità insieme al Comune venga mantenuta nel tempo. E questo mi sembra la cosa più importante da sottolineare. Avevo una certa diffidenza, come molti ragazzi della mia generazione, verso le pubbliche istituzioni perché non ci sentiamo più rappresentati. Ho capito, anche parlando con loro in questo periodo, che invece è molto importante tornare a ricostituire la collettività, contribuendo quanto più possibile alla condivisione di tutto quello che la nostra civiltà e comunità ha costruito ed avendo l'onore, ma soprattutto l'onere, di avere la responsabilità di conservazione, di manutenzione di questo bene che ha un valore al di sopra di molte cose materiali di cui oggi invece ci si vanta, è bene collaborare insieme alle pubbliche istituzioni, ai massimi esperti della materia per far sì che questo bene rimanga usufruibile e godibile da più persone possibile.